Per i non vedenti un'esperienza importante, oggi una vera e propria passeggiata, ma questa volta a cavallo, l'Unione Italiana Cica e i Povidenti si spende parecchio. Ci troviamo qui al Sir di Ragusa, grazie a loro che ci hanno invitato per questa manifestazione per noi molto importante, perché vedere il non vedente, l'ipovedente, salire su un cavallo, acquisire notizie per essere vicino al cavallo e poi cavalcarlo e percorrere delle strade, per noi è qualcosa di nuovo, qualcosa che ci fa sentire sempre più vicino e uguale agli altri. Presidente, un anno intenso di attività, l'Unione ovviamente è stata sempre vicina ai ragazzi. Sì, cerchiamo di darle il massimo affinché ognuno di noi possa provare emozioni diverse, emozioni che ci rendono sempre più partecipi, ci vedono attivi anche a queste iniziative sportive, perché abbiamo fatto scherma, abbiamo fatto tantissime altre attività e oggi pensiamo di trascorrere una giornata qui insieme al cavallo. Per voi un'esperienza importante, questa volta per l'Unione Italiana Cica? Sì, spesso abbiamo fatto questo tipo di esperienze con i ragazzi, non vedente la prima volta, quindi sarà questa un'esperienza anche per noi, è molto interessante, diciamo. Speriamo di fargli provare l'approccio e il rapporto con il cavallo in maniera, spero, meglio possibile. Che approccio avrà il cavallo con questi ragazzi? Allora, il cavallo è un animale molto sensibile, quindi sicuramente sentirà le emozioni che proveranno questi ragazzi. Io molto spesso ai miei allievi faccio fare degli esercizi con questi animali e mi rendo conto che per i non vedenti sarà davvero un'esperienza unica. Grazie a tutti!